Ad un anno dalla legge Lorenzin che sanciva l'obbligatorietà vaccinale per i bambini di facette età 0-3 anni per accedere ai servizi per l'infanzia o al nido, l'area Vasta 1 di Pesero Urbino presenta un report sui risultati positivi che quest'anno sono stati raggiunti avvicinandosi sensibilmente alla soglia del 95% di copertura indicata dall'OMS come la percentuale con la quale si raggiunge l'immunità comunitaria o di gregge come abbiamo imparato a chiamarla ultimamente. Passando così dal 92 al 93,52% di popolazione vaccinata per l'esavalente e dal 86,35% al 92,29% per morbillo, parotite e rosolia. Il distretto di Urbino viaggia a valori oltre la predetta soglia e Pesero invece è sempre fanalino di coda con valori al di sotto del 90% mentre in mezzo c'è Fano che registra un 95,33% su esavalente e 93,74% per morbillo, parotite e rosolia. È stato un grande carico di lavoro, è stato un grande impegno soprattutto alle nostre assistenti sanitarie, dalla coordinatrice, da chi è a tutto il personale che ha sopportato tutto questo sistema compreso il personale amministrativo perché è un lavoro di squadra che è stato enorme anche da un punto di vista appunto delle percorsi di tipo amministrativo, rapporti con le scuole e quant'altro dove tutto l'insieme era estremamente complesso ed impegnativo. Le risorse all'inizio erano anche abbastanza scarse si sono implementate nel corso di questo anno, non sono ancora sufficienti ma io devo soprattutto ringraziare l'impegno che è stato effettuato per la realtà di quella parte della normativa che prevedeva degli colloqui. Per non vanificare questi risultati raggiunti e per spazzare via la confusione che l'autocertificazione introdotta dal neoministro Grillo e lo slittamento di altri 12 mesi per l'obbligo avevano indotto in questi mesi che la regione Marche nella giornata di ieri a larga maggioranza ha invece approvato l'obbligatorietà vaccinale già dal prossimo anno scolastico attraverso l'approvazione di un testo unico che accorpa due disegni di legge in materia. Siamo intervenuti proprio anche per questo quindi insomma il dibattito è stato un dibattito però devo ringraziare veramente insomma coloro che hanno come dire retto l'urto come dire di una giornata difficile e complicata tra l'altro in un periodo anche come dire particolare insomma del solito agosto ecco è un mese come dire in cui queste come dire l'assemblea istituzionale l'assemblea regionale è diciamo in una fase di crescenza però era talmente alta secondo noi la posta in gioco e c'è stata come dire una risposta da parte di tutti i consiglieri devo dire anche di quelli contrari insomma ecco abbastanza positiva.